Insoddisfatto ma con la coscienza pulita. Insoddisfatto perché abbiamo fatto non tutto quello che avremmo voluto ma con i mezzi che avevamo e nelle circostanze abbiamo fatto direi più del possibile. Senta, lei ha gestito la riporto di Cabo. Come ha lasciato questa riporto? Ho lasciato in mano agli americani, funzionante, che erano i patti, che era la ragione per cui il 26 tutti i miei siamo venuti via. Abbiamo portato fuori 900 che gestivano l'aeroporto più la famiglia. Il 26 l'abbiamo trasferito agli americani. Come lo lasceranno loro è probabilmente portando via tutto e qualcuno dovrà subentrare per poi gestirlo.